Con Giuseppe Cherubini, uno degli organizzatori del comitato della Mille Mille, il vicepresidente, per venire qui in Umbria avete voluto questo territorio, la motivazione qual è? Sicuramente i paesaggi immagino. Innanzitutto ringraziare per gli anni precedenti che ci avete sempre accolto con passione e con affetto e quindi quando quest'anno abbiamo avuto la possibilità di ripassare è stata una vera gioia. Immagino e questo territorio tra l'altro vi accoglie come, io l'ho seguita la Mille Mille, come tanti altri territori, vi accolgono sempre volentieri perché siete un museo viaggiante e rappresentate lo stile italiano. Circa l'80% dei nostri equipaggi sono stranieri e quando arrivano sulla pedana d'arrivo e ci dicono ci vediamo l'anno prossimo in realtà è un ringraziamento a tutte le località che attraversiamo. E questo è importantissimo per voi? È fondamentale perché l'Italia è un paese che verifica di essere riconosciuto per la sua bellezza e il suo calore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.